Lala, lala, sto pulendo la mia auto, la mia Lamborghini deve essere splendente, al momento è davvero impolveratissima, pulisco tutto, bene, questa parte dietro, la marmita, e poi gli sportelli, pulisco anche internamente, ok, bene, i sedili, così quando mi siedo non mi impolvero, il volante, ok, e la parte anteriore, i fari, et voilà, guardate che bella! Io adoro la mia Lamborghini fucsia, ciao Sofì, che fai? Pulizie, sto pulendo la mia auto, non vedi? Wow, la tua macchina è bellissima, non ho mai visto nulla di simile! Lo so, sì sì sì, è bellissima, ma soprattutto adesso è brillante, prima era tutta opaca, impolverata, adesso è pulitissima, però fuma anche, e in più va veloce come il vento! Wow, mi faresti fare un giro! Tu vorresti fare un giro qui, nel senso, tu con i tuoi piedi, le tue gambe, entrare qui dentro? E no, 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 assolutamente non è possibile! Ma ti prego, fammi fare un girettino, un girettino veloce veloce, è davvero super bella, e soprattutto andrà velocissima, la voglio provare! Me la graffi, ed è nuova, assolutamente no, è mia e devo guidarla io! Ah sì? Me la faccio vedere io! Prendi un po' di prato! Non ci credo che l'hai fatto veramente a lui! Pulisci! Non pulisco un bel niente! Lui, se non pulisci, io, io ti butto in piscina! Oh, mi faresti soltanto un piacere a buttarmi in piscina, mi rinfreschierei, con questo caldo ci starebbe proprio un bel bagno in piscina! Allora, sai cosa faccio? Ti butto nello stagno! Nello stagno? Eh, ok, forse il bagnetto nello stagno non è proprio il massimo! Va bene, dai, pulisco qui queste erbacce! Così! Le stai buttando tutte addosso! Lui, guarda, lascia fare a me! Grazie, grazie, grazie mille, vai via, ciao, ciao! Sai cosa ti dico? Che voglio anch'io una macchinina, e prenderò la macchinina più bella che tu abbia mai visto! Ancora più bella della tua, rosa e Lamborghini! Oh, sì, sì, ancora più bella! Guarda che non esiste macchina più bella del reame! Staremo a vedere, sarai super invidiosa, non appena tornerò! Vado! Super invidiosa, sì, 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 come no! Tornerò qui con qualche macchinina a pedali, tipo triciclo! Io conosco lui come le mie tasche! Ah, povero cocodè invidioso! Per rendere ancora più profumata la mia auto, mi è venuta un'idea! Prendo un fiorellino... Questo fiore si chiama gelsomino, e fa un profumo assurdo! Io amo i profumi dove c'è questo fiore! Ne prendo due, e li metto qui! Che meraviglia! Adesso non solo abbellirà la mia macchina, ma la profumeranno anche! Ma cosa è questo rumore? Adesso come la mettiamo? E quella Mercedes da dove spunta? Wow, ma è stupenda! Ha i vetri oscurati! È davvero meravigliosa! Tutta bianca e squadrata, ma soprattutto molto capiente! Caspita, dentro è gigantesca! Già, è mia e si chiama Mini Polar! Le hai dato anche un nome? Anch'io ho dato un nome alla mia auto! Si chiama... Barbie Lambo! Gini! Barbighini! Barbie! Barbighini, che nome banale! Non è nulla a confronto alla mia Mini Polar! Che soprattutto è velocissima! Velocissima la tua auto! Sì, ok, è grande, spaziosa, molto carina! Ma di sicuro in quanto a velocità la mia la batte! Ah sì? Io non credo proprio con una carciofina al volante! Con una carciofina al volante? Ma come ti permetti? Lui... Sono veramente offesa! E io propongo una sfida! Di che sfida stai parlando? Gara di velocità! Ci sto! Mini Polar contro Barbie Lamborghini! Yeah, yeah, mini! E aggiungerei anche una piccola penitenza per il perdente! Ciao! Ma nulla di che è semplicemente il perdente dovrà mettere un piede dentro lo stagno delle rane con tutti gli insetti, tutti i moscerini, le piante carnivore! Che schifo! Oh cavolo! Questa è la penitenza delle penitenze! Ma ci sto! Perché tanto so che per me la mia Barbie Guini o Barbie Lamborghini la vittoria è assicurata! Quindi è tempo di metterci in posizione nei posti di partenza! Il percorso che andremo a fare è davvero interessante e pieno di insidie! Infatti dopo aver attraversato questa parte normalissima col pavimento e gli alberi che come vedete è molto larga e quindi semplicissima da attraversare continueremo o continueremo attraversando questo arco con questo mega albero gigantesco sopra sorpasseremo anche il nostro campetto di calcio proseguiremo avanti, avanti, avanti fino ad arrivare in questa galleria e usciti dall'ombra ci aspetta il percorso spinato! Guardate qui! A destra e a sinistra ci sono piante grasse piene di spine! Ma non spine normali! Guardate quanto sono grandi! Queste piante sono davvero spaventosissime! Ce ne sono di tantissimi tipi, una più spinosa dell'altra e alla fine questa sarà l'arrivo questa riga qui che divide il pavimento rosso da quello bianco per questa gara ci saranno tre round nel primo lui vedrà quanto tempo ci sto io per fare tutto il percorso nel secondo invece io cronometrerò lui e nel terzo faremo una vera e propria gara e entrambi dovremo arrivare allo stesso punto di arrivo Diamo il via alla festa! Vai col primo round! Sarà una passeggiata Entrare lo è sempre un po' meno Ok, la accendo Sono pronta! Cronometro attivato? Il cronometro è pronto! 3, 2, 1, via! Perché non parte? Devo mettere avanti! Vado, vado, vado! Ma vai pianissimo! Ragazzi è lentissima! Non è vero, alla fine capirai Sarà un vero gioco da ragazzi batterla Io camminando vado molto più veloce Mi sa tanto che abbiamo un perdente qui Ride bene chi ride ultimo Vuoi una mano? Ti spingo un pochino? No, grazie! Qui il tempo scorre È passato più di un minuto Vabbè, vabbè, vedremo Stavo battendo Ragazzi non ci sono dubbi Ho la vittoria in tasca Vincerò sicuramente la sfida E Sofì si dovrà fare il bagno nello stagno È arrivata! Fermiamo il tempo 2 minuti e 46 Caspita ci ho impiegato un bel po' Vedrai, vedrai In realtà ho un piano segreto Eh? Cosa? Un piano segreto? Ma di che stai parlando? Adesso passiamo al secondo round Cronometriamo il tuo tempo E poi vi spiego È il mio momento Vado ad accendere la mia macchina Accensione Sono pronto Partenza in 3 2 1 Via! Anche tu sei molto lento Cocodè Non ce l'ho letta Sono la mia massima velocità Ehi, ehi, ehi Perché ti sei fermato? Non lo so Dai, dai Machinina, dai Devi spingerla Lo spingo io No, non devo spingerla Dai, per favore Se la posso fare Devo vincere Ti prego Accelera Vai più veloce Ci aiuta con le mani La scimmietta Ti batterò Ti batterò Questa è una promessa Tic tac Il tempo scorre Sto superando la via delle spine Aiuto Ho paura di pungermi Arrivo, arrivo Tic tac Tic tac Stop Il tempo Quanto ho fatto? Il tuo tempo è di 2 minuti e 39 Sì Questo significa che la mia macchina è più veloce della tua Perché sono arrivato in meno tempo Tu 2 minuti e 46 Io 2 minuti e 39 E questo vuol dire che adesso? Ti batterò Sì, sì Adesso c'è il testa a testa E io sono pronta Anzi Molto pronta Andiamo nei posti di partenza Siamo pronti Finalmente il momento della gara Il momento decisivo Quindi Saluto delle trote Yeah, yeah, nini 3, 2, 1 Via Oh, sei Ciao, Sofì Ciao Qualcuno non è partito? Ci vediamo al traguardo, Sofì Bye, bye Ragazzi Non sono ancora partita Perché voglio fare a lui Una piccola sorpresina Infatti non gli ho detto Che io finora avevo la velocità al minimo Mi basterà schiacciare questo pulsante Per sfrecciare via come un fulmine Sto arrivando, Luì Oh Ah, ho la vittoria in pugno Sono il numero 1 Imbattibile Ho già vinto praticamente Fantastico Ciao, Luì Bye, bye Lulo, come sovi? Com'è possibile? Ehi Avete visto che faccia? Come c'è riuscita Ehi, Sofì Torna qui Qui qualcuno sta vincendo Aspetta Arrivo anch'io Un attimo Aspetta Sto arrivando Sto arrivando Prima Arrivata Luì Ma quanto tempo ci impiega Tic tac Tic tac Che lentezza Secondo Sono arrivato secondo Solo perché tu Hai fatto qualche manovra strana Nella tua macchina E sfrecciava la velocità Della luce E bravura, Luì Sono bravura E quindi È ufficiale La mia macchina È più veloce Della tua Ok È dura ammetterlo Ma Sofì È stata molto più veloce E più brava Grazie, grazie Ma sai questo cosa significa? Che adesso Io ho vinto E che quindi Qualcun altro Deve fare la penitenza Oh no Avevo dimenticato la penitenza Sono nei guai Quindi non vi perdete il video di domani Perché vedrete la mia penitenza Sarà divertentissimo ragazzi Lui Entrerà dentro lo stagno Ma adesso Se vi siete persi il video di ieri Cliccate qui davanti a Sofì Mentre per vedere un altro video divertentissimo Cliccate davanti a lui Noi vi mandiamo un bacio Un abbraccio Ci vediamo domani Con una nuovissima avventura Ciao Ciao